E' ancora tempo di Mix Festival a Cortona, prosegue infatti senza sosta il caledoscopio di arti in Val di Chiana. Protagonisti della terza giornata del Festival cortonese, l'atmosfera e thriller di Stefano Piedimonte, autore del romanzo L'innamoratore, intervistato da Marco Caneschi. Spazio poi all'epica dello sport con le vittorie imperfette di Emiliano Potti. E' stato poi San Francesco ad ospitare i solisti dell'orchestra toscana in un concerto tra Vivaldi e Piazzolla. Novità dell'edizione 2016 del Cortona Mix Festival. Una vincente gara tra barman e aspiranti tali a son di cocktail a base di vino con l'obiettivo di esaltare le tipicità del territorio di provenienza. Al termine della competizione, tutti i cocktail preparati sono stati i protagonisti di una piccola asta, il cui ricavato è stato devoluto all'associazione Fulvio Cimaroli Ollus che raccoglie fondi per la lotta alla Slam. La giornata si è infine conclusa con le ritmiche travolgenti della pizzica salentina in piazza Signorelli. La giornata si è infine conclusa con le ritmiche travolgenti della pizzica salentina in piazza Signorelli. La giornata si è infine conclusa con le ritmiche travolgenti dellaпонia in piazza Signorelli. La giornata si è infine conclusa con le ritmiche travolgenti dellaümкая salentina in piazza Signorelli. Si è infine catasto con le ritmiche travolgenti della Alexa che ha infine salvato con le ritmiche travolgenti della divinità di Slam. Grazie.